Federico Balessi e Gianluca Doveri, vi intervisto insieme perché avete un cappello che si abbina a entrambi. Gianluca, senti, una grande prestazione al centrocampo, soprattutto in fase offensiva, ti è mancato solamente il gol? Sì, col centrocampo a tre diciamo che siamo coperti bene in fase difensiva e poi sia io che Daniele abbiamo più spazio per andare in avanti e quindi è chiaro che le occasioni capitano, purtroppo però per ora non stanno entrando. Il calcio di rigore c'era oppure si è lamentato molto il numero 4 Fulignati del Castelfiorentino? No, anche perché io tiravo un porta, se non mi avesse tirato avrei tirato un porta io, poi tra l'altro sono diffidato quindi una munizione così per simulazione non l'avrei presa, quindi secondo me c'era. Ecco, state bene fisicamente, il lavoro fatto nella pausa natalizia sta dando sui frutti? Eh sì, abbiamo lavorato benissimo sia col prof che col mister e in un campo pesante come questo la preparazione che abbiamo fatto ci sta permettendo di andare più forte di quegli altri e i risultati si vedono. Federico Balestri, il pubblico ti osanna un po' come un beniamino per questi gol agli ultimi 5 minuti e poi un numero da altre categorie. Sì, è andata bene. Adesso sono entrato, ho fatto l'assist a Jonathan, sono contento, ritravo già detto, ma insomma cerco di ritagliarmi lo spazio di questa squadra che è veramente difficile perché è una squadra già completa e quindi sono felice di essere approvato qui e cerco come sempre di dare il mio contributo quando vengo chiamato un caldo al mister. Ora inizieranno anche le fasi finali della Coppa Nazionale, quindi si giocherà ogni tre giorni, quindi sicuramente ci sarà sempre più rotazione da parte di voi tre davanti, però diciamo anche quando oggi avete giocato tutti e tre insieme per la prima volta. Sì, è vero, comunque sia mi trovo bene sia con Jonny che con Cristian, è chiaro che magari nell'assetto di squadra giocare con tre punte come noi magari poi il centrocampo della difesa potrebbe risentirne, Gianluca ride, quindi giustamente il mister fa le sue scelte e credo che le stia facendo nel modo migliore. Comunque sia adesso c'è la Coppa, quindi giocheremo ogni tre giorni, ci sarà più spazio, forse ci sarà bisogno magari che qualcuno tiri un po' il fiato e quindi credo che ci sia più spazio un po' per tutti e siamo pronti, ecco. Ci manca solamente un gol in rovesciata e poi lo stadio può venire anche giù. Mi garberebbe, mi garberebbe tanto. Anche perché ci hai provato a un certo punto, hai arrivato una palla alta, hai provato a rovesciata, ma ti sei fermato perché non ci arrivavi. Sì, infatti, però insomma aspettiamo questa palla, dai.